VEDO UN VIAGGIO Un uomo che attraversa i deserti. Un cavaliere? Un guerriero. Le vostre strade si uniranno. Ammirate! Il vostro nuovo padrone! Quando regna l'oscurità. Calarri sveglia anime terribilmente malvagie. Quando il male dilaga. Ho cercato di assoggettare tutta Imboria. Una leggenda. Nessuno dovrebbe vivere in catena. Sorgerà. Fuggi da me e raterò al suolo le montagne per trovarti. Ti seguirò all'inferno. Esatto. No! Come Ashi! Come Ashi! Come Ashi! Conan, The Barbarian Dal 18 agosto in 3D